questo pad huawei davvero una figata perché permette di ricaricare questo mouse sempre huawei senza fili dopo la sigla faremo l'unboxing e vi parlerò delle caratteristiche tecniche nel frattempo non dimenticarti di iscriverti al canale mentre facciamo l'unboxing vi parlo un po delle caratteristiche tecniche questo pad ha una superficie rigida e realizzato con del materiale in polimerico super liscio che offre una maggiore scorrevolezza del mouse ben fatta la confezione il packaging spellicoliamo il nostro pad è sempre bello spellicolare ma continuiamo a vedere cosa si trova nella confezione ecco abbiamo anche il cavo di alimentazione usb tipo c ma ora ve lo mostro meglio da vicino sulla destra troviamo la forma del mouse ovviamente appoggiandolo qui il pad inizia a ricaricare è dotato della ricarica rapida e può ricaricare ogni dispositivo compatibile con lo standard qui ma è il momento di parlare del mouse e quindi facciamo l'unboxing dovete sapere che questo mouse ha tre modalità di connessione potete collegarlo sia con il cavo sia attraverso bluetooth ma anche attraverso il ricevitore wireless ma vediamo come si comporta sul pad ed effettivamente vedete lo tocco con il dito e scivola facilmente proprio come sostiene il produttore tenendolo tra le mani si percepisce la qualità dei materiali nella parte sottostante troviamo i pulsanti per connetterlo attraverso bluetooth il cambio di modalità e qui troviamo il ricevitore wireless che possiamo collegare al computer scusate non abbiamo finito di fare l'unboxing ovviamente nella confezione troviamo anche il cavo usb tipo c per collegarlo via cavo il produttore sostiene che riesce a durare 35 ore anche con una ricarica di 5 minuti mentre con una ricarica completa può arrivare fino a 350 ore inoltre questo mouse ha una risoluzione estremamente elevata di 16.000 dpi che offre molte opzioni di regolazione con 7 tasti tutti programmabili effettivamente provandolo almeno queste sono le prime impressioni lo trovo davvero molto preciso e naturalmente non potevano mancare gli effetti luminosi personalizzati infatti questo mouse supporta 16,8 milioni di colori in conclusione lo trovo una figata accoppiato al tappetino che è davvero comodo perché ci permette di ricaricare il nostro mouse facilmente per me è promosso brava huawei e per chi è interessato sotto al video trovate il link per acquistare su amazon a miglior prezzo mi raccomando se avete apprezzato questa recensione non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti